Sì, zio, vedete? Il numero 244 Silenzio adesso, silenzio Silenzio Aspetta, mi torno il volume Ecco, così possono parlare con un po' Ok, intanto buongiorno a tutti Buongiorno Immagino che è stato un percorso difficile e faticoso Mi avete raccontato un po' le traversie di questa estate per arrivare fino qua E quindi mi auguro che possiate ripartire per le sementi domani E andare in un posto proprio caldo In matrimonio io li devo leggere il Codice Civile Che si compone appunto degli articoli 143, 44, 147 E poi successivamente vi leggo la parte della normativa nazionale Quindi poi voi sarete felicemente sfogliati in Italia Poi non so Sì, poi faremo l'aiuto con la pratica di lavoro Ok Per cui cominciamo Siete Corsiglia Valerio e siete Gorman Dayan Juyen? Sì Diritti e dovere reciproci dei congi Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione Entrambi i congi sono tenuti ciascuno in relazione delle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale a tesalento a conseguire i bisogni della famiglia Il 144 Indirizzo della vita familiare e la presidenza della famiglia I congi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la presidenza della famiglia secondo le presidenze di entrambi e quelle premenenti della famiglia stessa A ciascuno dei congi rispetto al portiere di attuale indirizzo controllo dato L'articolo 147 Dover persi i figli, che sono già grandi celli, ma non sono Il matrimonio impone, dando i due congi, l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità di indirizzo naturale e di aspirazione dei figli Per cui, c'è il consenso per averci in troppo Dichiara il signor Torsiglia Valeria di voler prendere in moglie la signora Gorman Dayan Jen, qui presente Dichiara la signora Gorman Dayan Jen di voler prendere in marito il signor Torsiglia Valeria, qui presente I testimoni hanno sentito? Io Francesco Cavallero Sindaco, ufficiale del Stato Civile, dichiaro in nome della legge che il signor Torsiglia Valeria e la signora Gorman Dayan Jen sono uniti matrimonio, potete scambiarvi gli anelli Ma non si dice qualcuno qualcosa da dire, parli ora, faccia per sempre, non ce l'ho detto Si vuole, non so se è molto vero di canale, ma potete farlo No, quello che è vero Oh, grazie, è vero Ok Questo è la prima parte Per cui vi leggo l'atto di matrimonio Nanno 2020, il D5 del mese di dicembre alle ore 10 e minuti zero nella Casa Comunale, una sala aperta al pubblico Avanti a me Cavallero Francesco, sindaco ufficiale del Stato Civile del Comune di Casal Borgone Vestiti in forma ufficiale sono professionalmente comparsi Corsiglia Valeria Libero, nato in Torino il 7 giugno 1956 E Gorman Dayan Jen, libera di Stato, nata in Niagara Falls, USA, il 29 gennaio 1944 Scusate, una residente in Casal Borgone, l'altra in Brandon, Florida Brandon, si dice? Sì, Brandon, Florida I quali mi hanno richiesto di unire il matrimonio e a questo effetto mi hanno presentato un documento sottodescritto che munito del mio visto inseriscono i volumi allegati di professore legittimi insieme con quelli intrati adotti all'atto la richiesta pubblicativa Dall'esame di tutti gli anzi detti documenti, risultando nulla a ostare l'assicurazione del matrimonio, ho letto gli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile Quindi ho domandato allo sposo se intende di prendere il moglie da qui presente Gorman Dayan Jen e a questa se intende di prendere il marito da qui presente con figlia Valeria Ed avendomi ciascuno risposto affermativamente a piena intelligenza, anche dei testimoni sottoindicati, ho dichiarato che i medesimi sono uniti in matrimonio A questo atto sono stati presenti quali testimoni? Corsiglia Federica, nata a Corino il 22 maggio 1983, presidente Corina e Corsiglia Marco, nata a Corino il 10 giugno 1965, ritengo da Marco Il documento è presentato e certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio e lasciato l'ufficiale del Stato Civile del Cuneo di Tesor Bordone in data 512 e cui risulta per la pubblicazione è avvenuta regolarmente del Cuneo di Tesor Bordone dal 24 al 12 al 1 al 12 Disposi alla presenza degli stessi testimoni, mi ha dichiarato di scegliere il regime di separazione di Iberia e non è perdito 162 secondo comune del Codice Civile Il presente atto viene letto in tre minuti, quali se ci insiedono e susscrivono Ok, siete felicemente scusati Allora, signora, io i fiori non posso muoverli perché c'è il cellulare Grazie 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 Grazie